Musica Strangola la moglie e poi si impicca, tragedia a San Marcellino di Caserta. Antonio Topa, 51 anni, ha prima ucciso la moglie e poi si è suicidato. La donna un anno fa lo aveva già denunciato. A cave dei Tirreni condannato e a 30 anni l'uomo che uccise la moglie davanti al figlio piccolo. Festival di Giffoni, il giorno di Fico e Costa. Il presidente della Camera e il ministro dell'Ambiente incontrano i ragazzi. Il messaggio dell'esponente 5 Stelle sui migranti, la priorità è salvare vite umane. Il generale dell'arma, i giovani, senza ecologia non c'è futuro. Rifiuti via le gare per le ecoballe. Il vicepresidente Bonavitacola assicura ok dell'ANAC, si procede con i bandi. Due impianti a Caivano e Giuliano per un totale di 3 milioni e 600 mila ecoballe da distruggere. Pastore ucciso nel sannio, fissata l'autopsia. C'è attesa per l'esame autoptico del 45enne, ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. A Frasso Telesino, l'uomo era appena uscito dal carcere per aver violentato una quindicenne. FCA e il dopo Marchionne, incertezza in Campania. L'AD della Fiat in coma irreversibile. I sindacati esprimono preoccupazione per il futuro dei lavoratori dei due grandi stabilimenti di Pomigliano e Prato la Serra. Avellino, Ciampi, serve un miracolo. Il primo cittadino si sfoga su Facebook dopo il colloquio con il prefetto. Situazione dei conti disastrosa. La città è stata saccheggiata. Il primo agosto il primo consiglio con il rebus presidenza è giunta. E intanto il gruppo, mai più, si taglia lo stipendio. Buonasera dal TG 696. In apertura la cronaca omicidio-suicidio a San Marcellino, nel Casertano. Un uomo ha ucciso sua moglie strangolandola. Un anno fa la donna lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Vediamo il servizio. Non è stato un episodio isolato quello di San Marcellino, in provincia di Caserta, che ha portato all'omicidio di Immacolata Stabile, 48 anni, uccisa dal marito Antonio Topa, di 50, che a sua volta si è poi suicidato. La donna, esattamente un anno fa, lo aveva già denunciato. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la moglie si era recata dai carabinieri per raccontare dei maltrattamenti che subiva dal marito. Però la denuncia fu ritirata dopo due settimane. Un episodio che delinea comunque un rapporto difficile, nonostante i conoscenti e anche i due figli non abbiano mai parlato di una situazione particolarmente grave. Eppure la scorsa notte, dopo un furioso litigio, l'uomo, carpentiere di professione, ha strangolato a mani nude la moglie e poi si è impiccato nel solaio della sua abitazione. A fare il ritrovamento sono stati i figli della coppia. Di ritorno da una serata fuori casa, i due, un maschio e una femmina, entrambi i maggiorenni, sono ancora sotto shock. Alle forze dell'ordine è toccato ricostruire il terribile episodio, l'ennesimo effemminicidio avvenuto tra le mura domestiche. Anche a Napoli ci è mancato poco che una donna venisse uccisa dal proprio compagno. Alla base del litigio la gelosia è così che un 31enne cingalese ha aggredito la sua ex fidanzata 38enne con nazionali a calci e pugni e ha tentato di soffocarla con un cuscino facendole perdere i sensi. È stata proprio lei a telefonare al 112 per chiedere aiuto. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri nell'abitazione di Via Fontanella che hanno bloccato e arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Trent'anni di carcere, questa la condanna per Salvatore Siani, il barbiere di Cava dei Tirreni, accusato di aver ucciso con 40 coltellate la moglie 41enne Nunzia Maiorano a deciderle il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore. Sara Botte. È stato condannato a 30 anni di carcere Salvatore Siani, il 48enne barbiere di Cava dei Tirreni, accusato dell'omicidio volontario della moglie Nunzia Maiorano. La donna è stata colpita con più di 40 coltellate, picchiata, presa a morsi e calci. Le percosse le hanno fracassato il setto nasale e lo zigomo destro. Ad emettere la sentenza il GUP Gustavo Danise presso il Tribunale di Nocera Inferiore, al termine del rito abbreviato. Il delitto fu commesso il 22 gennaio scorso, dinanzi al figlio di 5 anni della coppia. Tutto è accaduto nella casa della madre di Nunzia Maiorano, la 41enne vittima e moglie dell'imputato in località Sant'Anna di Cava. Il 48enne aveva da poco accompagnato due dei tre figli a scuola. Nunzia aveva passato la notte con la madre, stava preparando il latte per il figlio che giocava in cortile. Salvatore Siani la raggiunse in cucina, da qui il litigio e l'aggressione, culminata con più di 40 fendenti sferrati sul corpo della donna, che fuggì in camera da letto, provando a difendersi. A chiamare i carabinieri fu una vicina di casa, attirata dalle urla. Al GIP Siani disse di essere stato esasperato dalla donna, che voleva lasciarlo. Nunzia pare fosse stanca degli atteggiamenti violenti del marito. Il 48enne fu ricoverato in ospedale, aveva una ferita da taglio sul petto, della quale incolpò la moglie. La sua versione fu però smentita dal racconto del figlio dei due, di cinque anni, che assistette al delitto e dai rilievi della scientifica. Potrebbe essersi trattato di un tentativo dell'uomo di togliersi la vita. Ancora una rissa fra extracomunitari a Rione Vasto, a Napoli, dove un ragazzo di colore è rimasto ferito, sembrerebbe accoltellato dopo essere stato aggredito da alcuni connazionali. È successo poco dopo le 14.30 all'angolo tra Via Venezia e Via Torino. Si è trattato di uno scontro tra due diversi gruppi immigrati africani. Il giovane ferito è stato trasportato in ambulanza, in ospedale. Ancora hanno reso note le sue condizioni di salute. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ospiti del Festival di Giffoni. Davanti ai ragazzi, l'inquilino di Montecitorio ha posto l'accento sui migranti e ha detto la priorità deve essere quella di salvare le vite umane. L'Europa dei migranti, la partita delle nomine RAI, la malattia del trasformismo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha tutto campo nella visita oggi a Giffoni-Vallepiana per il Festival dei Ragazzi. Al centro dell'agenda, il tema dei migranti. Ci sarebbe bisogno di un'Europa solidale, capace di integrare. Le parole dell'inquilino di Montecitorio ai giurati serve una politica seria e lungimirante nei confronti della Libia. Non possiamo girare lo sguardo dall'altra parte. La priorità è salvare vite in mare, sempre e comunque. Poi dopo si discute dell'accoglienza e dell'integrazione. Abbiamo parlato anche del tema acqua, un tema fondamentale per cui dobbiamo eliminarlo dalla logica di profitto e farlo diventare a tutti gli effetti bene comuni. Oltre a Fico, a Giffoni ha fatto tappa anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha posto l'accento sulla necessità per i più giovani di avere una forte coscienza ecologica. Immergersi in una platea di giovani che sono pieni di entusiasmo, di voglia e di passione ti riempie sempre, ti fa tornare arricchito nelle attività di tutti i giorni. Poi si è parlato di tutti i temi che possono riguardare l'ambiente, dalla mobilità sostenibile ai rifiuti, al modo di interpretare i bilanci ecologici, alla tutela dell'ambiente insieme alla tutela della salute. Quindi si sono toccati i tanti temi che appunto danno la misura che oggi i giovani non sono certamente giovani disinformati, magari che un tempo potevamo rammentare, ma principalmente vogliono conoscere, stanno sul pezzo e vogliono avere un riscontro concreto di chi poi magari prova come me a fare le cose. Le critiche al nostro partito e al centro-destra sono assolutamente inciustificate e strumentali. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Domenico Desiano, in merito alla nomina di Gian Paolo Scafarto, da assessore alla sicurezza e all'ambiente nella giunta di Castellamare di Stabbia. Per il segretario regionale degli Azzurri, la fascia tricolore, Gaetano Cimmino, è pienamente autonomo nella scelta dell'esecutivo stabiese, di fatto ad impronta tecnica. Allo stesso modo però Desiano, pur ribadendo di non voler discutere le qualità umane e professionali del carabiniero indagato, non manca di riservare una stoccata. Non ci sfugge il tema dell'inopportunità di questa scelta che il sindaco avrebbe potuto comunque assumere a chiarimento avvenuto, visto che presta di fianco a critiche e strumentalizzazioni. Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia. Via alle gare per gli impianti che faranno sparire le coballe. Lo annuncia il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che si dice ottimista. Entro autunno si potrà contrattualizzare la rimozione di tutte le coballe presenti sul territorio campano. Arriva l'ok definitivo dell'autorità anticorruzione e dalla regione il vicepresidente Fulvio Bonavitacola fa sapere che finalmente si può procedere con l'emanazione dei bandi per iniziare a liberarsi delle coballe in Campania. Due gli impianti che andranno a gara. Il primo produrrà combustibile solido presso lo stir di Caivano. Il servizio comprende 400.000 tonnellate all'anno per tre anni. Quindi si lavoreranno in complesso 2.400.000 tonnellate. Il secondo bando riguarda l'impianto di recupero in un'area di Giuliano, già adibita a centrale elettrica, oggi dismessa. Il servizio comprende 200.000 tonnellate all'anno per tre anni. Tirando le somme, i due impianti che stiamo per mettere a gara lavoreranno 3.600.000 tonnellate di ecoballe e se aggiungiamo le 800.000 già affidate e la facoltà di estensione già prevista, entro la prima parte dell'autunno potremo contrattualizzare la rimozione di tutte le ecoballe, assicura il vicepresidente dell'Aggiunta De Luca. Ovvio che c'è una residua quota di finanziamenti aggiuntivi che occorrono per completare il programma, ma con i cantieri aperti e le attività in corso i soldi alla fine usciranno, aggiunge Bonavitacola. Ma quanto ci vorrà per mettere la parola fine al capitolo decennale delle ecoballe in Campania? Dipenderà esclusivamente dai cantieri, dice l'avvocato De Luca, che sugli impianti di compostaggio di prossimità si dice totalmente d'accordo con il ministro dell'Ambiente Costa. Infine, sulla quarta linea del termovalorizzatore di Acerra, Bonavitacola conferma la volontà della regione di avviare il progetto. è una proposta seria, ha detto, perché non possiamo restare legati ad ogni rischio di guasto temporaneo. Reparto chiuso per la festa del primario si indaga per abuso d'ufficio. Il medico si difende nessun disservizio. Gli inquirenti hanno ascoltato la moglie di un paziente spostato in altro ospedale. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. Un fascicolo aperto al momento ancora contro i gnoti ma per gli inquirenti resta il giallo su come sono andate realmente le cose nel corso del primo fine settimana di luglio all'ospedale del Mare dove un reparto sarebbe rimasto chiuso per consentire a medici e operatori di prendere parte alla festa per la nomina del nuovo primario che non risulta indagato per ora. Stando a quanto trapelato dall'ospedale del Mare dai vertici dell'Asl il medico sostiene di non aver apportato alcun disservizio con la chiusura del reparto peraltro garantendo fin anche risparmi alla stessa struttura ospedaliera una versione che non sembra combaciare però con quanto sta venendo fuori in questo primo filone di indagine aperto dalla procura di Napoli inchiesta coordinata dal PM Francesco Raffaele magistrato in forza al pool manipulite dell'aggiunto Alfonso Davino l'ipotesi battuta dagli inquirenti per ora è di abuso d'ufficio nelle ultime ore è stata interrogata la moglie di un paziente che era stato trasferito presso l'ospedale di San Giovanni Bosco per essere operato con un sospetto aneurisma cerebrale la donna ha confermato che ci sarebbe stata una telefonata tra i primari dei due reparti per garantire il corretto svolgimento dell'operazione al lavoro ci sono i carabinieri del NAS c'è una prima acquisizione documentale gli inquirenti non si sono limitati ad ascoltare la moglie del paziente spostato agli atti è finita anche la testimonianza del direttore sanitario dell'ospedale e della caposala ma quello del reparto chiuso per una notte nell'ospedale del mare non è l'unico capitolo investigativo quel giorno tutto il gruppo di lavoro della chirurgia vascolare risulta non presente una festa di beneficenza a scopo umanitario secondo quanto è trapelato dallo stretto riservo del medico che non sarebbe la prima volta che organizza eventi del genere qualche minuto di ritardo e quella bimba di due anni sarebbe morta quando sono stati chiamati i soccorsi era cianottica con gli occhi riversi in stato di incoscienza l'hanno salvata gli agenti della polizia stradale di Avellino agli ordini del vicequestore Renato Alfano è accaduto ieri poco dopo le 13 lungo l'autostrada 16 Napoli Canusa nel territorio di Monteforte Irpino la pattuglia della polstrada ha fatto da apripista all'auto sulla quale viaggiava la piccola fino all'arrivo all'ospedale Moscati dove è stata affidata agli esperti del reparto di rianimazione i medici sono riusciti a stabilizzare le condizioni della piccola poi trasferita nel reparto di pediatria i test ai quali è stata sottoposta hanno confermato che era fuori pericolo e c'è attesa nel sannio per l'autopsia del pastore di 45 anni ucciso lo scorso 19 luglio a colpi di pistola davanti alla sua abitazione mercoledì pomeriggio il sostituto procuratore di Benevento Francesco Sansobrino affiderà l'incarico al medico legale Emilio Doro per l'autopsia di Giuseppe Matarazzo 45 anni il pastore di Frasso Telesino ucciso a colpi di pistola la sera dello scorso 19 luglio dinanzi alla sua abitazione alla Contrada Selva c'è attesa per l'esame che dovrà anche restituire quanti dei 5 proiettili esplosi abbiano centrato la vittima l'accertamento tecnico irripetibile è stato disposto in una indagine che al momento è contro i gnoti è affidata ai carabinieri che stanno cercando ogni elemento utile alla definizione del delitto di una persona che un mese prima aveva terminato di scontare il suo debito con la giustizia dal 4 marzo del 2009 quando era stato arrestato allo scorso 18 giugno era infatti rimasto in carcere dopo gli 11 anni e 6 mesi che gli erano stati inflitti perché riconosciuto responsabile di abusi su una quindicenne che il 6 gennaio del 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero l'altra sera due sigari arrivate a bordo di un'auto con la scusa di chiedere un'informazione si erano avvicinate all'abitazione del 45enne ed il passeggero aveva esploso almeno 5 colpi di pistola all'indirizzo del pastore mentre Marchion resta in gravi condizioni si apre una nuova fase per FCA i sindacati temono ripercussioni sugli stabilimenti campani preoccupata la CGL più ottimista la Fismic in FCA è iniziato il dopo Marchionne e i sindacati stanno alla finestra per le ripercussioni che potrebbero esserci sugli stabilimenti campani preoccupata la CGL il segretario generale irpino Franco Fiordellisi auspica una svolta concreta e positiva per lo stabilimento di Prato la Serra considerate le incertezze degli ultimi tempi e chiede investimenti e lo spostamento di produzioni sull'area avellinese bisogna immediatamente invertire la rotta bisogna colmare il preoccupante ritardo di produzione ibrida ed elettrica più ottimista invece la Fismic con il segretario Giuseppe Zaulino che allarga il ragionamento anche a Pomigliano per Pomigliano è stato anche garantito l'investimento e tutti gli strumenti gli ammortizzatori sociali prolungati di un anno per consentire gli investimenti oltre alla Panda ci sarà anche un nuovo SUV che garantirà il pieno rientro di tutte le maestranze anche per Prato la Serra è un ragionamento di qualche mese ma arriveranno le risposte perché i nuovi modelli di FCA i premium che si faranno in Italia dovranno avere dei propulsori che se non è il diesel sarà l'ibrido e poi l'elettrico e noi siamo in grado per le maestranze per la professionalità di fare l'uno e l'altro 5 anni e 8 mesi di reclusione per Luigi Ridosso Junior 6 anni e 4 mesi a gennaio Ridosso e 1 anno e 2 mesi per Alfonso Loreto sono le condanne inflitte agli esponenti dei due clan operanti nell'agro nocerino sarnese dal GUP nel processo per corruzione elettorale cambio di voto estorsione e minaccia aggravata al comune di Scafati questa la decisione del giudice dopo il rito abbreviato nel processo parallelo risultano imputati fra gli altri il sindaco Pasquale Aliberti e la moglie il consigliere regionale Monica Paolino il primo cittadino di Avellino si sfoga su Facebook dopo il colloquio con il prefetto situazione dei conti disastrosa Avellino è stata saccheggiata il primo agosto il primo consiglio comunale con il repus di presidenza giunta intanto il gruppo mai più si taglia lo stipendio stiamo lavorando assiduamente per porre in essere uno dei primi punti del nostro programma di governo l'operazione verità sui bilanci del comune di Avellino lo scrive in un post il sindaco Vincenzo Ciampi che questa mattina ha avuto un primo confronto interlocutorio con il prefetto Tirone ciò che posso dire al momento prosegue il sindaco è che le casse del comune sono in uno stato disastroso Avellino è stata completamente saccheggiata per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare ma è certo che faremo di tutto per evitare ulteriori danni alla città intanto c'è la data del primo consiglio comunale dell'era Ciampi il primo agosto alle 17 in quella sede verranno eletti il presidente e il vicepresidente dell'assise e il sindaco sarà in aula con la sua giunta la cui formazione resta però ancora in alto mare il gruppo mai più nel frattempo ha annunciato la rinuncia ai gettoni di presenza per tutta la consigliatura è un gesto che ci convince profondamente della nostra idea di politica che è un modo gratuito di aiutare la città di Avellino e stupisce anche che altre forze politiche come il Movimento 5 Stelle che ha fatto di questo tipo di attività una bandiera anche elettorale nella campagna elettorale invece sembra in queste ore più interessata ad accaparrarsi alle poltrone c'è un problema sulla giunta si litiga sulla composizione della giunta e sul sostegno a Ciampi Cipriano aggiunge la cosiddetta ribattezzata dai giornali Santa Alleanza rimane perché il gruppo Cipriano Morano Preziosi continuerà a sostenere il sindaco Ciampi lo farà chiaramente in autonomia in consiglio comunale sta al sindaco e al Movimento 5 Stelle avere la responsabilità di nominare persone capaci e competenti in grado di risolvere i problemi una sola cosa dico non accetteremo ulteriormente operazioni marketing operazioni di comunicazione le presunte incompatibilità dei sindaci salernitani negal mettono a rischio l'erogazione di 109 milioni di euro di fondi europei e la denuncia dei 5 Stelle che hanno portato il caso all'attenzione dell'ANAC di Cantone una trentina di incompatibilità contestate nella sola provincia di Salerno e che fanno riferimento al ruolo dei sindaci dei GAL in gergo tecnico inconferibilità non dichiarata la regione Campania che dunque non può procedere all'erogazione dei fondi risultato ben 109 milioni di euro di fondi europei a rischio e la denuncia del Movimento 5 Stelle di Salerno dopo le verifiche del meetup cittadino questa mattina l'incontro con la stampa alla presenza della senatrice Felicia Gaudiano e del consigliere regionale Michele Cammarano il caso è finito all'attenzione dell'autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone il problema innanzitutto è l'incompatibilità infatti non a caso io mi collego all'articolo o meglio al decreto legislativo 39 del 2013 che si rifà già alla Corte dei Conti europea nel 2010 che evidenzia proprio l'incompatibilità che sussiste tra un sindaco e allo stesso tembo membro appunto di un comune che allo stesso tempo è presidente del Degal quindi lei può ben capire l'incompatibilità nello svolgere lo stesso ruolo la regione Campania il comitato di selezione ha richiesto a tutti i rappresentanti Degal e a ciascuno che sedesse nell'organo decisionale di questi GAL di conferire la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità prevista dall'articolo 39 ora queste dichiarazioni pare che non siano state conferite e il problema è in parte che chi non ha conferito queste dichiarazioni GAL che non le hanno conferite hanno un concreto rischio di non ricevere i fondi i milioni di euro previsti per il loro progetto quasi 50 milioni di euro per il nuovo polo amministrativo che sorgerà a Benevento nell'ex caserma Pepicelli questa mattina la firma del protocollo di intesa tra comune e agenzia del demanio è tra i primi in campania Maria Teresa De Lucia L'ex caserma Pepicelli chiusa come scuola allievi carabinieri dal 2012 diventa polo amministrativo lo ha sancito il protocollo di intesa firmato questa mattina dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal direttore dell'agenzia del demanio Roberto Raggi 48 milioni e mezzo di euro per riqualificare la struttura di oltre 40 mila metri quadri che sarà in grado di ospitare entro il 2023 nove pubbliche amministrazioni la ragioneria di stato la commissione tributaria l'archivio di stato l'agenzia delle dogane quella delle entrate il ministero del lavoro il tribunale la guardia di finanze ed il ministero della giustizia con un risparmio di spesa di oltre un milione di euro l'anno siamo la prima realtà provinciale che in campagna realizza questo ripeto l'investimento di 50 milioni di euro una cosa enorme il più grande investimento che si realizza in provincia di Benevento perché assieme all'altra è la mia gestione che realizziamo 150-170 milioni di euro quindi una cosa enorme faremo un censimento di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà del comune di Benevento che insieme alle proprietà dello Stato faremo un progetto unico di valorizzazione direi che Benevento da questo punto di vista rispetto alle altre delle città della campagna è all'avanguardia un altro bene già individuato è l'ex ufficio del direttore del carcere di San Felice immobile di proprietà dello Stato nel centro storico di Benevento che sarà inserito nel portafoglio immobiliare di valore paese cammini e percorsi progetto dell'agenzia nato per trasformare in stazioni di servizio ed assistenza dedicate ad amanti del turismo lento i beni in disuso lungo cammini storico-religiosi e ciclovie ripercorre gli oltre 40 anni di figli delle stelle emozionando le generazioni di quell'epoca e i giovani di oggi Alan Sorrenti noto cantautore campano si è presentato così ad Ariano Iorpino vediamo è stato senza dubbio questo il momento più esaltante e coinvolgente dell'esibizione di Alan Sorrenti all'Ariano Music Station Figli delle Stelle quel brano terapia che ancora oggi trasmette le stesse emozioni profonde e che ha regalato un grande successo popolare al noto cantautore campano è una canzone che parla di persone sole che si incontrano lungo il cammino della vita ma poi spesso si perdono tocco una corda vitale nostra che però non vibra sempre questa apertura questa gioia io perciò ho parlato di condizione vitale e credo che di questa condizione vitale ce ne sia bisogno ancora e quindi io veramente mi auguro che i giovani continuino tirando fuori questa condizione vitale perché in effetti veramente se la tirano fuori loro diventa esplosiva cioè nel senso positivo nel senso che diventa qualcosa che può veramente lasciare il segno e cambiare quindi non c'è che augurarsi questo immagino Figli delle Stelle ci unisce in qualche modo in un modo assolutamente non razionale a tutto era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito vi lascio alle previsioni in medio grazie a tutti Grazie a tutti.